E' importantissima perché noi abbiamo tantissime pubbliche amministrazioni, esempi di virtuosità. Noi queste virtuosità dobbiamo trasferire, cioè far sì che tutte le pubbliche amministrazioni possono essere trainate dalle amministrazioni più virtuose, quindi condividere le best practice. Gli strumenti li abbiamo, la nostra pubblica amministrazione si può digitalizzare domani mattina, gli strumenti ci sono e dobbiamo diffondere, dobbiamo fare capire che le best practice possono essere utilizzate sia dalle grandi pubbliche amministrazioni ma soprattutto anche da quelli che sono stati. Grazie a tutti.